come finirà la sop con protagonisti alex belli delia duran e solei sorge al grande fratello vip 6 sono indubbiamente loro al centro della scena sin dall'inizio il pubblico di canale 5 è ormai convinto che il tutto sia stato organizzato per attirare i riflettori delle in pochi riescono a credere che la modella sudamericana abbia deciso di entrare nella casa di cinecittà per trovare le risposte che cerca sul suo futuro con l'attore di 100 vetrine difficile immaginarlo visto che qualche mese fa dopo un confronto con solei aveva apertamente dichiarato di essere propensa a diventare una gfina ed ecco che dopo la squalifica del marito delia è approdata nel reality condotto da alfonso signorini pronta a farsi riprendere 24 ore su 24 il suo arrivo non ha convinto molti e solei ha accusato sia lei che alex di aver messo su un teatrino per attirare l'attenzione anche rispondendo alle domande di natali caldonazzo nelle scorse ore la sorge ha ribadito che la sua amicizia con belli era vera ma crede comunque che dietro la coppia ci sia un copione il tutto sarebbe stato organizzato ancora prima dell'inizio di questa sesta edizione e solei porta avanti la sua versione mentre parla con barù jessica selassie e davide silvestri un po tutti concorrenti ormai sono scettici circa la motivazione che la modella ha dato quando è approdata nella casa ed ecco che la sorge presenta un eventuale finale di questa soap proprio come se stesse anticipando come andrà a finire tra alex ed elia ci sarà un momento dove lei realizzerà quanto è innamorata ancora lui anche quindi grande scena d'amore di riconquista di dimostrazione d'amore del loro matrimonio super teatrale oppure col minimo di litigio iniziale ma poi finisce così poi vivranno felici e scon queste le parole della sorge e in effetti potrebbe andare a finire proprio così secondo barù il tutto dovrebbe avvenire entro due settimane un mese in tanti però accusano solei di essere una delle protagoniste di questa soap di essere sempre stata consapevole di tutto ciò che sarebbe accaduto e di non essere affatto la vittima della situazione